Ciao a tutti e bentrovati su Impara Da Vinci Resolve. Parte una nuova stagione di tutorial dedicata interamente a Da Vinci Resolve 18, uscito quest'estate, ufficialmente quest'estate. Ancora non è disponibile in materiale didattico ufficiale, ma arriverà a brevissimo. Noi comunque partiamo in anticipo, partiamo con i tutorial ufficiali, quindi basati sul manuale ufficiale di Da Vinci Resolve. La logica del canale non cambia, quindi saranno tutorial estremamente formativi basati sulla documentazione ufficiale. La copertina di ogni video presenta almeno quattro informazioni chiave. La colorazione del background della cover rappresenta la pagina alla quale si riferisce il tutorial in questione, quindi parliamo di editing, di project settings, di delivery, di media page, avrete un background di colore bianco. Andiamo sull'orange sulla color page, sul blu ciano per quanto riguarda Fusion, sul giallo per quanto riguarda Fairlight, quindi è facilmente riconoscibile. Ogni tutorial poi dedicato a una pagina specifica verrà introdotto all'interno di playlist dedicate a quella pagina. Ecco, il titolo, come siamo sempre abituati all'interno di questo canale, sarà estremamente chiaro. Esprimerà con concetti tecnici l'argomento di cui parleremo, quindi nessun titolo clickbait. No, preferisco utilizzare dei titoli magari meno attraenti dal punto di vista dell'appeal, ma però più specifici che identificano chiaramente di cosa si andrà a parlare. Poi la terza informazione riguarda il livello richiesto, quindi ci sarà un livello base aperto un po' a tutti, soprattutto chi è all'inizio con DaVinci Resolve, quindi un tutorial dedicato a loro, poi ci sarà un livello intermedio e un livello avanzato. L'ultima informazione importantissima che trovate in basso a sinistra è la versione di DaVinci Resolve richiesta, versione intendo release, quindi DaVinci Resolve 16, 17 o 18. All'interno del mio sito, che trovate in sovraimpressione e anche in descrizione in tutti i video, potete accedere alla community, sia in versione gratuita nella quale troverete tutti i video del canale senza contenuti pubblicitari, più altri contenuti testuali. Nella versione invece premium avrete dei corsi specifici pensati proprio per DaVinci Resolve con un obiettivo e un argomento preciso. Si tratta di corsi progressivi con lezioni che verranno pubblicate settimana dopo settimana. Inoltre partiranno a brevissimo i corsi di certificazione ufficiale, ma di questo vi aggiornerò man mano. All'interno di questo canale verranno pubblicati circa due video a settimana. Ogni tanto faremo anche dei video di approfondimento, quindi video un po' più estesi, nei quali andremo a sviscerare con maggiore dettaglio un argomento preciso, magari di elevato interesse. Poi ripartiranno verso fine ottobre e novembre anche le live del lunedì sera per chi era abituato a seguirle nella stagione passata. Quindi direi di partire con il primo tutorial della stagione DaVinci Resolve 18. Ripartiamo questa nuova stagione dall'interfaccia di DaVinci Resolve, in questo caso appunto di DaVinci Resolve 18. Vediamo come andare a creare dei preset legati al layout, come andarli ad esportare, caricare, aggiornare e cancellare. Parliamo di Screen Layout. Adesso ci mettiamo sulla Cut Page e supponiamo di personalizzare il nostro layout. Ad esempio voglio andare a rendere più evidente possibile il mio Viewer, quindi vado ad allargare al massimo il Viewer. Lo allargo anche sulla sinistra. Ecco una personalizzazione della Cut. Andiamo a personalizzare anche la Edit. Ad esempio andiamo ad aprire l'Inspector. Chiudiamo il Media Pool perché supponiamo di avere già tutte le clip caricate in Timeline e poi diamo spazio sempre al nostro Viewer. Poi andiamo su Fusion, andiamo a mettere un Viewer solo, quindi non in Dual Viewer. Andiamo ad aprire il Keyframe Editor e lo Spline Editor. E poi andiamo a restringere il nostro Inspector, quindi andando a cliccare sul pulsante in alto a destra di Expand o Shrink, in modo tale da dare ampio spazio sulla parte inferiore di Fusion. Poi andiamo in Color e anche qui spegniamo il pannello delle clip, ok? Andiamo sull'HDR panel e qui ci mettiamo sugli Scopes. Quindi andiamo a vedere gli Scopes. Ricordiamoci un po' questa struttura. Stessa cosa potrei fare anche su Fairlight. Abbiamo per ora personalizzato quattro page. Bene, voglio andarmi a salvare questo layout. Come facciamo? Andiamo in alto. Andiamo a cliccare su Workspace e vedete che c'è l'opzione che si chiama Layout Preset. Quindi andiamo a salvare il nostro preset. Lo chiamiamo Refining. Ok? Refining. Facciamo ok. Questo preset è salvato internamente a Resolve. Lo posso anche esportare, quindi salvarlo sul mio cloud o passarlo a colleghi e collaboratori andando sempre su Workspace, Layout Preset, Refining. Quindi vado a prendere il mio layout e vado a fare Export Preset. Adesso ad esempio lo posso salvare su una cartella che voglio. Adesso mi sono creato una cartella da vincere solo 18 Layout Preset. Lo salvo qua all'interno con l'estensione .preset. Adesso se voglio resettare il tutto alla configurazione di default, quindi tutta la mia interfaccia di tutte le page alla configurazione di default, vado su Workspace e vado a cliccare su Reset UI Layout che abbiamo già visto diverse volte all'interno di questo canale. Quindi Reset UI Layout. Viene tutto resettato come era prima, cioè alla configurazione di default dell'installazione di DaVinci Resolve 18. Adesso se voglio andare a caricare nuovamente il mio preset, perché adesso voglio fare refining sulla mia timeline, vado su Workspace, Layout Preset, Refining e faccio Load Preset. Lo ricarico. Vedete che adesso la color page si è già modificata, quindi con l'HDR panel come avevamo messo, con gli scope qua. Se vado a vedere sulla cat page ho sempre la mia immagine ingrandita. Se vado sulla Edit, vedete tutta l'estensione della timeline, non ho più il media pool, ho aperto l'inspector in Shrink. Ecco, però se vado su Fusion vedete che qui non viene fatto nulla, non mi viene portato più lo Spline Editor e neanche il Keyframe Editor, come avevo configurato prima. Perché Fusion esce un po' da questa logica, al contrario di tutte le altre pagine, se voglio utilizzare dei preset su Fusion posso andare sul mio Layout Preset e andare sui tre preset predefiniti di Fusion, quindi Left Flow con la sua configurazione, vedete con il Node Editor posto sulla sinistra, o posso andare a caricare Mid Flow. Il Node è messo al centro tra il viewer e l'inspector, altrimenti vado sulla configurazione di default. Questo per quanto riguarda Fusion. Benissimo, adesso se voglio andare a modificare un mio preset, allora proviamo a modificarlo, quindi andiamo a rimettere ad esempio il Keyframe Editor qua. Vado sulla Edit e vado a modificare il preset, cioè apro il Media Pool. Ok, voglio il Media Pool e voglio fare l'upgrade di questo preset. Quindi vado su Layout Preset, Refining, Update Preset. Vi segnala che questa opzione, una volta che faccio Update, non può più essere cancellata, quindi faccio Update lo stesso. Benissimo, adesso facciamo Reset UI Layout, quindi Resetiamo tutto, vedete tutto Resetato, tutto portato come era prima, su tutte le pagine. Ritorniamo adesso a caricare il nostro preset, Workspace, Layout Preset, Refining, Load. Viene fuori, adesso il preset aggiornato con il Media Pool, ma se vado su Fusion, ecco che non viene aggiornato nulla, mentre la Color Page sì, e così come la Cut Page, e così come la Fairlight Page. Posso cancellare il mio preset andando su Refining, Delete Preset e adesso questo non sarà più disponibile all'interno dei miei preset. L'ho cancellato, adesso facciamo Reset UI Layout, però lo posso importare nuovamente perché se mi pento di averlo cancellato, l'ho salvato e quindi lo posso importare Layout Preset, Import Layout as Preset. Andiamo a prendere il nostro preset, che è questo. Adesso magari guardiamone anche le dimensioni, sono 58 KB, quindi siccome tutti i preset è molto leggero, prendo il mio preset e faccio Open. Una volta che l'ho importato lo devo caricare, quindi lo devo andare a rendere attivo. Refining, Load, Preset. Non compare il Media Pool perché avevo esportato il mio preset prima di aggiornarlo con Media Pool presente. Quindi è la versione precedente, in cui c'è tutto ma non c'è naturalmente la personalizzazione della Fusion Page. Per chiudere questo tutorial vediamo una funzione rapidissima. Cioè se avete due monitor e volete utilizzare il secondo monitor di interfaccia, quindi legato alla vostra scheda grafica collegata al sistema operativo, cioè volete avere il secondo monitor con la preview full screen presa dalla scheda grafica. Andiamo su Video Clean Feed e andiamo ad attivare la preview sul monitor disponibile, che è quello selezionabile perché il primo monitor è quello che vediamo adesso, è quello a schermo, quello che viene utilizzato dall'interfaccia di default. Il secondo monitor invece è libero, è disponibile e quindi se io vado a cliccare su questo vedrò sul secondo monitor la preview in full screen della mia timeline. Se vogliamo spegnere il secondo monitor, andiamo su Workspace, Video Clean Feed e andiamo a cliccare su None. In questo modo il secondo monitor viene spento. Se avete delle domande in merito a come si usano i preset sul layout di DaVinci Resolve, invito a scrivere qui nei commenti di questo video oppure utilizzare la community free all'interno del sito www.andrealucchitrainer.it. Noi ci vediamo per il prossimo tutorial all'interno di Impara DaVinci Resolve.